Gentili amici di FC Internews, un saluto da Simone Togna, direttamente da Piano Gentile, dove si sta tenendo in questo momento l'allenamento del mattino dei ragazzi di Simone Inzaghi. Questa mattina, per l'appunto, pochi minuti fa, sono entrati, hanno varcato i cancelli del Suning Training Center. Per la prima volta in questa annata, i calciatori nello Azzurri impegnati con le proprie nazionali a giugno. Ecco quindi, tanto per dire, il nuovo acquisto frattesi, tra l'altro gentilissimo e disponibilissimo con i tifosi presenti. L'ex calciatore di Roma e Sassuolo si è infatti fermato per dieci minuti abbondanti per autografi e selfie. Presente, come avevamo annunciato in esclusiva questa mattina, anche André Onana, che è venuto per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra. Tra oggi e domani la partenza per le visite mediche del portiere nero-azzurro e quindi in settimana l'annuncio dell'accessione ufficiale al Manchester United. Per il resto, tra i primi ad arrivare, Simone Inzaghi, anche lui acclamato dal popolo interista. Per il resto, la società giustamente lavora al calcio mercato. Domani sono previste le visite mediche per Quadrado, che potrebbe già arrivare in serata.